Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 giugno, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto la questione su cui apre il Corriere della Sera in maniera piuttosto singolare è la seguente. Salvini attacca i giudici, cioè nel gran casino che sta avvenendo in questo momento si dice che Salvini stia dossieraggio. Qual è la replica? Dossieraggio. Cosa è successo? Salvini è attaccato da un certo magistrato, non lui. I suoi decreti che non vengono applicati a Bologna, non vengono applicati a Firenze, patronaggio fa quella cosa fenomenale che sequestra una barca, poi quindi fa scendere le persone e poi la dissequestra, cioè un paraculo pazzesco. Comunque, legittimo perché i magistrati, come vediamo e tra poco ne parleremo, sono intoccabili. Ma la cosa insopportabile è che quando Salvini cerca di difendersi, sostanzialmente, ma guardate se non ci fosse stato Salvini ci potrebbe essere stato uno del PD o anche di Forza Italia, figuratevi un po' di Forza Italia, cerca di difendersi dicendo ragazzi questi sono dei magistrati che fanno politica perché un magistrato che va alle manifestazioni della CGL fa politica, un magistrato che fa le manifestazioni contro le politiche e il decreto di sicurezza fa politica, porca puttana, e lui non ha il diritto di dire guardate che forse hanno, come possiamo dire, questi magistrati hanno un certo orientamento politico e bocciano il decreto di sicurezza per motivi politici, non perché non rispettano la legge che peraltro fa il legislatore e quindi non i magistrati che dovrebbero amministrare la giustizia e applicare le leggi, ma questa roba qua per il Corriere della Sera, ben venga, è il dossieraggio di Salvini, ovviamente ci stanno tutti dentro. La seconda questione che riguarda la magistratura è l'inchiesta invece di Palamara, dove c'è un'inchiesta di corruzione che riguarda lui, e poi siccome gli avevano messo un microchip sopra al telefonino, un Troian si chiama, un cavallo di Troia che registrava tutte le cose che faceva le persone che vedeva, le conversazioni che aveva, i luoghi dove si trovava Palamara, che essendo un uomo importante della magistratura ovviamente incontrava tutti, ha incontrato anche Lotti e Ferri, Ferri era un magistrato, peraltro candidato da Renzi nel PD e diventato parlamentare del PD, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, questa seconda parte invece era una questione che riguardava il fatto che questi signori cercavano di manovrare alcune nomine all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura di procuratori importanti come quello di Roma. Prima questione, prima questione, bravo dice Roberto, Mattarella dove stava? Ma no, il Presidente della Repubblica è intoccabile perché il Presidente della Repubblica è sempre un monito, è sempre un onore lavorare con lui, ma è presideva il CSM, allora mettiamoci d'accordo, o serve a qualcosa o non serve a qualcosa, forse ha fatto una moral suasion che non conosco, ma comunque sia, Presidente, avevano cercato di nominare al posto di Pignatore un certo Viola che è alla procura di Firenze e che pare andasse bene a Lotti e a quell'altro, ma mi sono accorto, mi sembra, correggetemi se sbaglio, che per questo Viola ha votato anche il magistrato integerrimo, amico del Fatto Quotidiano di Travaglio, che si chiama Davigo, quindi questo Viola non deve essere uno scappato di casa, ho capito, quando oggi mi leggo un'intervista a Buonafede, non più al CSM con le correnti, ma soltanto nomine per merito, ma scusate, questo Viola allora non ha merito perché lo stesso Davigo vorrebbe questo Viola, mi sembra di capire, tutti gli altri magistrati volevano Viola, diversa la questione politica, di opportunità politica, e oggi in realtà Roberti, ex capo della DDA, dell'antimafia in Italia, è eletto nel PD, magistrato eletto nel PD, apertura del Corriere del Mezzogiorno, dice, ma scusate, ma qua dobbiamo fare qualcosa, noi del PD, visto che lui ora è stato eletto, perché i nostri due parlamentari si sono messi a trescare con gli uomini del CSM e io da magistrato questa cosa non la posso sopportare. E in questo anche lo strillone del fatto dei 5 Stelle, cioè il Fatto Quotidiano, che cosa dice? Ma insomma, in tutta questa vicenda, che cosa si capisce? Che il caso del CSM è targato Partito Democratico, perché i due che se ne occupano sono esattamente Lotti e Ferri, che sono nel Partito Democratico, il giornale dice, spuntano anche i giornalisti, insomma, però l'unica cosa che io vi dico è la seguente, cosa cambia tra questa tangentopoli, come la Evoca Galli della Loggia e, diciamo, della magistratura, tra la vecchia tangentopoli e questa questione della magistratura, che tutti e due fanno emergere un certo clima brutto, opaco, che non ci piace, perché siamo tutti ipocrite, moralisti e pensiamo che le nomine siano fatte sempre su una base di un algoritmo curriculare, cioè è Amazon che fa le nomine, no? Sono sempre perfetti. Le nomine sono sempre fatte, come possiamo dire, con un orientamento, con un'amicizia, con un'irregolarità, il merito è importante, ma quando si tratta di nomine pubbliche purtroppo si può anche sbagliare. Ma non è questo il punto. Qual è la differenza tra tangentopoli e questo? Che tangentopoli ha distrutto una classe politica, ha distrutto una classe dirigente, ha fatto suicidare persone, hanno perso il loro lavoro, non hanno più nessun ruolo nella società, venivano considerati gli appestati. La politica era merda, perché il Corriere della Sera, perché Repubblica, perché il fatto che allora non ci esisteva, ci hanno spiegato che tutti i mari derivavano dalla politica, ma tutti bene da chi derivavano? Dai magistrati, che oggi vediamo che sono più o meno la stessa cosa. Poi diciamo è la politica che li condiziona, ma se non ti fai condizionare, amico mio, sei molto più importante la politica, però solo che l'hai indagata da anni. Ma la differenza è che questi magistrati, questi magistrati, che non sono tutti magistrati, sono semplicemente degli ipocriti, ancora di più, perché loro, a differenza delle politiche, non perderanno il posto di lavoro, non perderanno il loro ruolo, stanno in questo momento, nonostante tutto questo casino, giudicando e indagando, perché come nulla fosse per loro, e tra l'altro con quella paraculata che oggi nota Italia Oggi, per cui se io mi autosospendo del CSM, se sono autosospesi 4 e 1, che sarà sicuramente più per bene, se invece dimesso, quei 4 che si autosospendono continuano a prendere lo stipendio e sostanzialmente non hanno fatto nulla, non si sono dimessi, non hanno fatto niente, un gesto di enorme, gigantesca ipocrisia italica. Altre questioni, Conte non ha sciolto la sua riserva, va in Vietnam e fa capire i giornali, guardate che ancora non mi hanno convinto né Salvini né Di Maio a fare quello che voglio. Ha ragione, poi qualcun altro che ora mi dice, la magistratura, poi dicono il fatto, si accorge che il PD è la condizione, è sempre stata di sinistra, ma di che stiamo parlando? A parte un gruppetto di magistrati rigorosi, di estrazione conservatrice, rigorosi nel senso che volevano applicare le leggi per come sono e non interpretarle, la magistratura, da quella democratica in poi, è sempre stata di sinistra. Conte non ha sciolto la riserva, l'Europa l'ha sciolta, dice che il nostro debito non va bene e che dovremmo ridurlo. Tra l'altro lo scostamento del debito, lo leggete su Sole 24 ore, sapete a quanto è pari nel 2019, e non già per questo governo, ma per il trascinamento che avviene anche dal passato, di 160 miliardi di euro. Quindi, siccome noi stiamo qua a parlare di manovre da 30-40, obbligatorie, secondo loro, non secondo loro, bisogna dare un segnale, ma comunque il segnale è che noi stiamo crescendo di 160 miliardi di euro in più rispetto a quello previsto. Capite che non è una cifra fattibile per un paese che non cresce. Moscovici al Sole dice che servono fatti, Dobronsky invece dice a Repubblica ma dovete fare una manovra correttiva e scordatevi la flat tax. Ovviamente, come sempre, quando leggete i pezzi di Repubblica, quello che c'è nei titoli non è quello che c'è scritto nel pezzo. Dobronsky è duro, dice che forse serve una manovra, ma scordatevi la flat tax, la parola scordatevi da flat tax è falsa. Non la dice, dice che bisogna vedere il contesto, che non è favorevole chiaramente alla flat tax, ma scordatevi la flat tax, così perentorio, non c'è nessuna licenza giornalistica per renderlo così forte. Cioè attribuiscono al commissario una frase che non ha detto. Complimenti, non è la prima volta. Mi ricordo quando Orban fu intervistato e disse che non condivideva Salvini, insomma fecero dire ad Orban, non ne parlava neanche, insomma. Una roba incredibile. Fallisce la trattativa tra FCA e Renault. Tutti quanti i giornali oggi dicono, i titoli stanno crollando in borsa, ma crollando, per un 3-4%. Il consiglio di amministrazione della Renault infatti non aveva preso una decisione ieri sera e tutti dicono Macron, il cattivo Macron, che io trovo insopportabile, ma per la cosa fincantieri, per tanti suoi sciovinismi da finto europeista della minchia. Perciò non sto difendendo Macron. Ma c'è un piccolo dettaglio, che leggendo il Wall Street Journal si capisce che non è così semplice la vicenda, anche perché mi sono chiesto, e vorrei che voi vi chiedeste, ma secondo voi la famiglia Elkan veramente fa saltare 2 miliardi e mezzo di dividendo che si sarebbe presa personalmente, una grande aggregazione industriale, diventare azionisti della terza società automobilistica del mondo. Si perde tutto questo perché non vuole che la sede sia a Parigi, come i giornali oggi ci fanno credere, quindi hanno resistito a queste richieste di Macron. Ma non diciamo cazzate. È evidente che avrebbero ceduto la sede a Parigi, così come oggi la sede non è più a Torino, perché la sede c'erano ad Amsterdam e a Londra e loro sono più francesi che italiani. È del tutto evidente che avrebbero ceduto. Ma si sono fatti gli affari loro e soprattutto hanno capito che all'interno del Consiglio d'amministrazione della Renault, cosa che ho letto su Wall Street Journal, i due rappresentanti della Nissan questa operazione non la volevano fare e quindi lo Stato francese tra Nissan e Fiat ci ha pensato un po' o comunque voleva che ci si pensasse un po' e che comunque le parti non fossero così semplici. Insomma, la storia che la Fiat e la Renault non si fondono è bello raccontarla perché quello stronzo di Macron ha voluto fare il solito nazionalista francese e ci starà che lo ha fatto ed è insopportabile sempre nella sua difesa oltranza dei suoi diritti francesi. Ma attenzione che la cosa mi sembra più complicata. Se ne va via dall'Italia Knorr perché va in Portogallo, 76 persone perdono il posto di lavoro. È una cosa ovviamente per quelle tragica e mi spiace ovviamente, è un brutto segnale. Così come è un brutto segnale che l'ILVA oggi mette in cassa integrazione 1.400 persone che è la cassa integrazione nell'acciaio dove ho lavorato per un paio d'anni. È una caratteristica tipica purtroppo perché i cicli produttivi quando non si fanno auto o lavatrici è difficile riuscire a vendere i piani. Ma comunque lasciamo perdere il concetto di ILVA e Knorr che sono due storie di un'economia che non tira moltissimo. Ma nessuno racconta che ieri Saipem, quella che volevamo mettere in galera grazie ai magistrati di Milano, ci può stare, o quelle grandi, poche multinazionali italiane che vengono sempre indagate per corruzione, in Mozambico ha chiuso un contratto da 5,3 miliardi di euro. Vi rendete conto? 5,3 miliardi di euro. Una finanziaria. Un contratto vinto con capofila una società italiana. Poi certo noi possiamo dire che è sempre una merda, fa tutto schifo, ma ci sono alcune aziende italiane, alcune tipo Saipem, che riescono a fare delle cose diciamo più che decenti. 5,3 miliardi semmai in un governo normale più che fare i fenomeni eccetera potrebbero allungare la filiera per cui quando vince una grande multinazionale come Saipem c'è il poca di portarsi aziende italiane in filiera con sé all'estero. Beh, il pezzo oggi di Repubblica e concluso quello su Rai1 è indecoroso. Rai1 è diventata la rete di Salvini. Pensate un po' voi. Uno mattina hanno messo Poletti. Beh, Poletti può piacere o non piacere. È certamente un salviniano della prima ora. Tra l'altro non sapevo fosse stato eletto anche nei Verdi. Insomma, questi sono un po' pazzi, questi salviniani. Cazzo c'entrano i Verdi con Salvini, lo so solo il cielo. Ma comunque, può piacere o non piacere. Quindi, a loro non piace Poletti. Ma io dico, ma stiamo parlando della stessa Rai e della stessa Repubblica che quando invece, non lo so, c'è Lerner a Rai3 e si becca uno stipendio per puntata come ha notato Vespa sul libro triplo rispetto a quello che prende Vespa. Sta zitta e muta. Stiamo parlando di quella Rai? Stiamo parlando di quella Rai che prende Lerner che ha come autrice Laura Gnocchi. Magari qualcuno di voi che mi ascolta in questo momento può dirmi chi è Laura Gnocchi? Una grandissima autrice. Forse ha qualche rapporto con Repubblica? Lerner ha qualche rapporto con Repubblica? Il che va benissimo. È un ottimo professionista, figurate. Io non ne condivido nulla di quello che dico neanche sui toni da, come possiamo dire, da razzista nei confronti di chi non la pensa come lui. Ma, insomma, questa... La Rai non va bene Poletti. Tra l'altro, quando indicano sulla questione della Rai1 che sarebbe stata normalizzata, l'altra cosa che mi fa impazzire è che citano, tra gli altri conduttori, che sarebbe salito sul carro dei vincitori questo Diaco, questi sono proprio degli stronzi. Posso dire, io non conosco Diaco, l'ho visto due o tre volte in vita mia, ma definire un giornalista che lavora in Rai, che ha fatto il precario in Rai per una vita, che si prende i cazzo di contrattini in Rai e vive non come Lerner, ma vive di merda, cioè di contrattini che gli arrivano ogni tanto, come uno che sale sul carro dei vincitori, è una cosa che mi disgusta. E il collega della Repubblica che ha scritto che Diaco sale sul carro dei vincitori è, fa una maialata giornalistica. Posso dirla così? A me non me ne fotte nulla, mi ripeto di Diaco, ma la trovo una cosa orrenda, orrenda. Questi cazzo di uomini e giornalisti di Repubblica pensassero alla loro cricchetta della Gnocchi, di Lerner, Verdelli, Merlo, e tutti quelli che con la Rai invece ci hanno campato per anni. Non lo so, ve lo chiedo a voi, eh, no? E' salito sul carro dei vincitori, e' salito sul carro dei vincitori. Veramente una cosa orrenda. Vabbè, tra l'altro su Poletti, che può piacere o non piacere, sono andati a riprendere una sua dichiarazione in radio nei confronti di un immigrato a cui lui si è permesso di dire che gli stava sui coglioni e quindi quattro anni fa. E questo è il grande motivo per cui questo non è accettabile. Insomma, ragazzi, io che faccio questa zuppa, secondo me, se mi vanno a vedere quello che ho detto, anche minchiate, stupidaggini, che ho detto negli ultimi cinque anni, sono fottuto. Bene, vi do un grande saluto a tutti quanti voi, vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it e domani con un'altra zuppa. Ciao.